Amici 2023, tensione dietro le quinte, Maria delle scenate di Todaro, ora rischia. Sale la tensione dietro le quinte del serale di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Giunto alla sua ventiduesima edizione di messa in onda su Canale 5. Nel corso di una delle ultime puntate dello show, c'è stato spazio per una accesa lite verbale in studio tra la padrona di casa e il prof. Raimondo Todaro. La scena è stata tagliata dalla messa in onda televisiva ma, a quanto pare, la conduttrice e ideatrice dello show Mediaset inizierebbe ad essere stufa delle continue polemiche di Todaro. Nel dettaglio, una delle ultime puntate del serale di Amici 2023 è stata caratterizzata da una lite infuocata tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi. A quanto pare, infatti, la padrona di casa non avrebbe gradito le affermazioni fatte dall'insegnante di ballo. Il quale avrebbe dato per scontata la vittoria della cantante Angelina. Se pensi che Angelina sia già la vincitrice, perché non le dai la coppa? Cosa ci stiamo a fare qui? Avrebbe sbottato Maria De Filippi nel corso della registrazione contro il prof. Todaro. La scena, però, è stata tagliata dalla messa in onda televisiva su Canale 5, si è deciso. Infatti, di non propinare al pubblico tale durissimo intervento della conduttrice nei confronti dell'insegnante. Una decisione che, secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, celerebbe anche clima teso che ci sarebbe nel dietro le quinte della trasmissione. E, il motivo di tali tensioni, potrebbe essere legato proprio al fatto che la conduttrice di Amici 22 non gradirebbe più certe uscite da parte di Todaro. Maria è stanca di certe scenate di Todaro, il suo posto da prof di ballo, traballa. Scrive il settimanale aggiungendo che la De Filippi starebbe perdendo la sua flemma nei confronti dell'insegnante. E così, in vista della prossima edizione del talent show Mediaset, il prof Raymond Todaro potrebbe veder traballare la sua poltrona in studio e non si esclude che la conduttrice possa decidere di apportare delle modifiche al cast. In attesa di scoprire cosa succederà e come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane. Gli ascolti di questa 22esima edizione di Amici, continuano ad essere estremamente positivi. Con una media di oltre 4 milioni di fedelissimi, il talent show domina la scena nel sabato sera televisivo italiano. Con punte che arrivano a toccare e superare anche la soglia del 33% di share durante la messa in onda.